Ora, come abbiamo fatto le prime tre sere, continueremo con l'ascoltare per qualche minuto quello che hanno da dire i nostri candidati. E il loro parola ha comodato la professoressa Valeria De Tommaso. Buonasera a tutti. Sono Valeria De Tommaso del fatto che non te lo prendo e questa sera ho avuto l'onore di introdurre i miei amici per le ultime riflessioni.